Io parlo. Tu parli. Lui, lei parla. Noi parliamo. Voi parlate. Loro parlano. Conferire. Io conferisco. Tu conferisci. Lui, lei conferisce. Noi conferiamo. Voi conferite. Loro conferiscono. Telefonare. Io telefono. Tu telefoni. Lui, lei telefona. Noi telefoniamo. Voi telefonate. Loro telefonano. Chiamare. Io chiamo. Tu chiami. Lui, lei chiama. Noi chiamiamo. Voi chiamate. Loro chiamano. Leggere. Io lecco. Tu leggi. Lui, lei legge. Lui, lei legge. Noi leggiamo. Voi leggete. Loro leggono. Mentire. Io mento. Tu menti. Lui, lei mente. Lui, lei mente. Noi mentiamo. Voi mentite. Loro mentono. Scherzare. Io scherzo. Tu scherzi. Lui, lei scherza. Noi scherziamo. Voi scherzate. Loro scherzate. Loro scherzate. Chiedere. Io chiedo. Tu chiedi. Chiedi. Lui, lei chiede. Lui, lei chiede. Noi chiediamo. Voi chiedono. Loro chiedono. Rispondere. Io rispondo. Tu rispondi. Lui, lei rispondi. Noi rispondiamo. Voi rispondete. Loro rispondono. Loro rispondono. Buon appetito.